Nottata movimentata, quella appena trascorsa per le forze dell'ordine a Gela, intervenuti in via Rossini, in pieno centro storico dove le fiamme hanno attaccato una Fiat Panda e in via Tevere dove il fuoco ha interessato alcuni scatoloni che si trovavano dinanzi a delle baracche per la vendita di frutta e verdura. In quest'ultimo episodio ad intervenire sono stati dei militari della Guardia di Finanza che si trovavano in zona per un servizio di controllo. Sul posto sono intervenuti i pompieri del locale di staccamento. Proprio in mattinata i carabinieri di Gela e la Polizia Municipale avevano eseguito un'operazione in tre forze di Polizia Annuaria e Polizia Stradale finalizzata alla repressione dell'ambulantato abusivo del degrado urbano e della violazione delle norme sulla circolazione stradale. L'operazione ha visto impegnati numerosi uomini, sequestrato un quintale di frutta, dismesse sequestrate due bancarelle con annessi mega ombrelloni. Sotto chiave sono finiti anche tre veicoli. Elevati cinque verbali per guida senza patente per un importo totale di quasi 20.000 euro. Due verbali per imbrattamento di suolo pubblico, sei per violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada e due per mancata revisione dei veicoli. Sei persone sono state contravenzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico. Due le perquisizioni personali, altrettante quelle veicolari. Durante il blitz è stata controllata la conformità urbanistica di due manufatti edilizi utilizzati per la vendita di frutta e verdura. L'operazione si inquadra nell'ambito del più vasto programma finalizzato a riportare ordine e legalità a Gela, volendo reprimere quelle situazioni e comportamenti che determinano non solo un grave degrado ambientale, ma anche un forte danno patrimoniale per la maggioranza degli onesti operatori commerciali.